Non mi tira giù niente però eh! Buongiorno! Buongiorno! Ce l'abbiamo fatta forse a fare questo video? Se avete visto la foto su Instagram, ma soprattutto se avete visto il mio live su Periscope e se non mi seguite ancora su Periscope, venite a seguirmi perché è carino di tanto farsi dei live appunto su Periscope. Ok, ho avuto qualche problema tecnico per poter registrare questo video e quindi dopo circa due ore e mezza che sono qui che aspetto il momento per, forse adesso riesco a girarlo. Allora, vabbè, prima c'erano le bimbe che non piacevano ancora il video, ora c'è Gianmarco, però Gianmarco è bravo. Sta qua in compagnia con noi e è a posto. Allora, in questo video che ho intitolato, intitolerò però quando vedete il video l'avrò già intitolato, fritto misto, vi parlo di una serie di cose miste che mi stanno piacendo in questo periodo. Quindi è una specie di preferiti, però un misto, nel senso che non introduco soltanto una serie di prodotti che possono essere di trucco o prodotti per il corpo, ma anche prodotti che non c'entrano niente. Anche per la casa, un libro, insomma cose che non c'entrano niente. Perché in realtà, soprattutto di prodotti come, non so, un detersivo o una candela o un libro, non sapevo bene in quale tipo di video inserirli. E quindi ho pensato di fare questa roba, fritto misto, ok. Gianmarco però non mi distrugge tutto qua, eh. No, allora le candele vi dicevo, una è volata giù e grazie a Dio non si è rotta. Ve ne ho già parlato sul video, appunto, relativo alle profumazioni per l'ambiente. Vieni tu macchinino, Gianmarco, dai, dai fermi un attimo, se no la mamma non riesce così a fare il video. Allora, ve ne parlavo già nel video sulle profumazioni per l'ambiente e in effetti sono davvero infissa con queste profumazioni, tant'è che voglio andarmene a comprare un'altra. Allora, sono queste e sono appunto della produce, produce è scritto, produce, 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 produce si dice. Comunque, produce, se volete cercare, digitare su internet, è scritto producecandles.com, quindi producecandles.com.com. Sono delle candele tutte naturali, dice appunto All Natural Soy Wax e hanno delle profumazioni particolarissime, cioè tipo questa è il melone e mi piace tantissimo, questa è il pomodoro, mi piace molto anche questa, però in realtà non è che sentite proprio il profumo di pomodoro. sentite comunque quel tocco di, comunque vegetale, ovviamente piacevole, però è veramente, sono veramente buonissime, questa almeno ora vi giuro mi fa impazzire, mi piace da morire, infatti mi sa che me la ricomprerò. Io queste a Bologna le trovo da Gallina Smilza, ve l'ho già detto nell'altro video, altrimenti appunto voi potete cercare online o nel sito stesso di Gallina Smilza, che appunto penso le venda. Comunque appunto sono completamente naturali e hanno tutte queste profumazioni, oltre al packaging, che trovo assolutissimamente troppo carino. Quindi insomma questa almeno l'ho in cucina e anche questa al pomodoro in realtà la uso in cucina, però la uso anche in realtà sparsa per la casa. E niente, insomma, mi piace uno sacco, adesso le appoggio per terra altrimenti... Poi, restando in tema cucina, qualche settimana fa, ormai già al mese scorso, sono stata a Milano invitata da l'UFO per un evento, ve ne ho parlato sul blog proprio in questi giorni. Dimmi amore. Si, ti trucchi. A Milano appunto, ve ne ho parlato sul blog, è stato un evento nel quale appunto ci parlavano e ci spiegavano di questa iniziativa, di questo progetto che sostengono e che riguarda questa associazione Pollicino. che è un'associazione appunto di Milano che aiuta le famiglie per quanto riguarda tutti i problemi legati ai disturbi alimentari in età pediatrica, perché in realtà purtroppo disturbi alimentari e si intende non, come avete detto su Instagram, cioè mangiare le patatine fritte o il ketchup, non quello. Per disturbi alimentari si intende proprio anoressia, bulimia, cioè problemi di questo tipo che purtroppo si possono verificare anche in età pediatrica. E quindi niente, insomma, quando sono andata a Milano, lì dal bufo, mi hanno dato questo libro, che è un libro in realtà che loro avevano già pubblicato da tempo, nel senso non è una cosa nuova di adesso, ma che non avevo mai visto, adesso volevo vedere se c'era la data di prima pubblicazione della stampa. Non c'è scritto niente? Ero curiosa di sapere quando è stato pubblicato, ma non vedo date. Vabbè, insomma, niente, questo che è mamma adesso cucino io. Gianmarco mi stai tirando giusto. Fermo. Non riesco a registrare il video neanche così. Allora mamma adesso cucino io, con le ricette del bufo. Questo lo potete comprare, io penso, sul loro sito sicuro, perché l'ho visto, però si potrà trovare anche su Amazon, non so, in libreria, forse su Amazon. Comunque, dateci un'occhiata, perché è molto carino. Dice, avete mai pensato di coinvolgere i vostri figli in cucina? Se opportunatamente stimolati, anche i più piccoli possono stare la mamma e il papà a preparare ricette semplici e gustose. Dice, le ricette pratiche concise di Maria Castellano e le fotografie di Stefano Scatà, grandissimo, conducono in un mondo in cui la cucina si trasforma in un luogo di crescita e di allegria, eccetera, eccetera. No, quello che mi è piaciuto, che a parte il fatto che comunque è un bel libro, sapete che a me piacciono molto i libri fotografici e ovviamente le foto di Stefano Scatà, per chi non lo conoscesse. E' un famosissimo fotografo, non sai di chi è giusto? E' un famosissimo fotografo anche di Interior. C'è già appunto per questo libro mi piace, però in realtà quello che mi è piaciuto è che sono effettivamente delle ricette semplici e gustose. Tipo, piadina come piace a me, quindi c'è anche la ricetta per farsi la piadina. Oppure pane in regale, dei biscui attoli, ci sono tutte delle cosine carine. Guardate che belle ovviamente le foto. Questo è salto in bocca alla romana. Oppure cosa c'è? Risotto al salto. Ci sono tutte delle ricettine interessanti. Biscottini, cose che avevo visto. Io ho già fatto qualche ricetta. Tipo ho fatto il torchino con spinaci filanti, perché mi piacciono molto le torche salate. Gianmarco bisogna che stai fermo un attimo, però mi gira la testa. Vuoi andare dal papà? Brum del papà, dove è finito? Oppure la fettatina con prosciutto e formaggio alle erbette. Cioè ci sono delle ricette molto molto semplici, però magari vi da appunto un'idea, no? Perché non sempre si sa che cosa cucinare. Eppure vabbè sono tutte queste bellissime foto. E niente, ve lo volevo segnalare e non sapendo come, colgo l'occasione di questo video fritto misto. Dove vuoi andare adesso? No. No? Questa qua? Sì. Allora però stai un po' buono fermo? Hai già smontato tutto il letto? Ma non si dà in testa quel coso lì? Ok. Poi un'altra cosa che sono infissa e mi piace tantissimo e c'entra appunto sempre con l'Homme Décor. Sono questi, non so se li avevo già fatto vedere, questi vassoi di High Design. Non mi ricordo. Comunque li amo e li utilizzo un po' per tutto. Allora questo piccolo, così verde acqua, ce l'ho adesso sull'ingresso, tipo svuotatasche. Quindi c'è sopra una candela e poi non so ci mettiamo gli spicci oppure le chiavi quando entriamo in casa, tipo così. Questi invece li sto utilizzando più che altro, non so, per servire magari il caffè quando viene qualcuno oppure per metterci proprio anche da mangiare delle cose. Quindi mi piacciono tantissimo, ci sono di tantissime colorazioni e praticamente man mano tu le compri le collezioni e puoi fare appunto dei giochi di incastro sul tavolo. Quindi per dire, puoi apparecchiare la tavola, penso magari quando fai dei piccoli buffet, ovviamente per non tantissimi amici, perché non è che invitiamo 20 persone a cena, buffet a casa. Però puoi apparecchiare la tavola in modo carino, ovvero con tutti questi vassoi, no Gianmarco dai, fermo. Incastrati, messi tra di loro, no, con questi giochi geometrici, con le varie appunto dimissioni e colori, metterci sopra le cosine da mangiare e insomma anche invisivamente lo trovo veramente molto carino, come sistemare la tavola. Ecco trovo sia, non riesco a parlare io così, come va? Vabbè, appunto questo è un high design. Questi due tra l'altro, questi più grandi, me li ha regalati la nemica Narita che ringrazia ancora Narita. E quindi insomma, mi sono piaciuto molto. Se li ho già da un po' vai, cioè da parecchio, però infatti non mi ricordo se ve ne avessi già parlato. Abbiamo fatto un piccolo cambio. Allora, aspetta, mettiamoci a posto. La vedete? Chi c'è? Chi c'è? La Greta che se l'avete un po' scomporta è perché ovviamente ha pianto perché voleva stare con me. Quindi adesso è con me e speriamo però che faccia la brava. Ti sei impattacata un po'? Ecco, questo tra l'altro ve lo volevo far vedere cosa fa. Eh si, però non ve lo metterlo in bocca. Vabbè insomma proviamo a metterla qua e a vedere se riesco a combinare qualcosa. Allora, cosa vi volevo fare? Ah ecco, vi volevo parlare di due fantastici detersivi che mi stanno piacendo molto. Allora, il primo è questo ed è un detersivo per la lavatrice. Attenta, stai indietro qua. Di felce azzurra, si di felce azzurra e si chiama Bon Amore. E allora, io sapete che normalmente utilizzo un po' da sempre il Dixanne oppure il Dash. Però avevo trovato una promozione, mi sembra, ad antigotà. Per cui insomma era un'offerta, quindi costava un po' meno questo. E ho voluto provarlo perché in effetti, sentito un attimo così, aveva una buonissima profumazione. Comunque, di quelle profumazioni che mi ricordano comunque, attenta, il Dash o il Dixanne. E tra l'altro appunto dice, extra profumo che arriva al cuore. Efficace a 30 gradi, vabbè 45 lavaggi, questi sono 3 litri, nuova profumazione, bla bla bla. Mi sta buttando giù tutto. E dicessi proprio così, la vitalità che ti offre è molto di più di un pulito splendente su tutti i tuoi tessuti. Vabbè, dice appunto, questa è infinita sensazione di extra profumo. Bianchi, splendenti, colori extra luminosi, bla bla bla. Efficace anche a basse temperature, ideale per tutti i tipi di tessuto. E poi dice, il profumo dell'amburgutante blu mare freschezza anche nel tuo detersivo. Per una doppia sensazione di piacere e fresco pulito. Ragazzi, cioè, è veramente super profumato. È però super profumato senza dar fastidio. Nel senso che io effettivamente sento che resta una piacevolissima e fortissima profumazione sui capi. Anche una volta che si sono asciugati e anche una volta che li ho riposti già stirati nei cassetti. Quindi vado proprio a prendere fuori, non so, la maglietta o il pantalone o l'intimo. E fanno proprio questa profumazione che è intensa perché si sente. Però al tempo stesso è assolutamente piacevole e non fastidiosa. E sa proprio appunto di bucato, pulito, fresco. E quindi veramente, mi è piaciuto, mi sta piacendo tantissimo. Allora, insomma, volevo segnalarvelo. Perché io normalmente, come sapete, sui prodotti, sui detersivi per la lavatrice, non cambio. Cioè io fondamentalmente ho sempre usato il Dixan o il Dash. E quindi questa è stata, devo dire, una fantastica scoperta. Se vi capita, ve lo consiglio. Invece un altro prodotto che mi piace da impazzire e che riguarda sempre appunto detersivi per la casa, è questo, è della Nuncas. Allora, la Nuncas, sapete, fa dei prodotti assolutamente top per quanto riguarda la pulizia della casa. E normalmente io trovavo un po' di prodotti all'esse lunga. Però dato che l'esse lunga non è, io ho avuto in centro Bologna e in centro Bologna non c'è l'esse lunga. Quindi ok che faccio ogni tanto la spesa online. Però comunque l'esse lunga non ha tutta la gamma dei prodotti Nuncas. Ho trovato invece qui in centro che ci sono un po' di posticini che la vendono. In particolar modo quello più vicino a casa mia è in strada maggiore ed è Scaramagli. 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 Praticamente due pareti, insomma due scansie belle grandi, tutti di prodotti Nuncas. Cioè hanno veramente tutta la gamma dei prodotti di pulizia Nuncas. Sto provando vari prodotti. Però adesso in particolare vi voglio segnalare subito questo. Che è appunto il detergente perfetto per tutti i tipi di pavimento. Asciuga velocemente senza lasciare agoni. E questa è nella profumazione Onda del mare. Cioè è buonissima questa profumazione. Mi piace da morire. Infatti sta finendo e andrò subito a ricomprarlo. Voglio sentire anche della stessa linea le altre due profumazioni. Perché ci sia i petali di fiori e invece un altro che non riesco a capire da qua. E' verde però non si capisce da qua. Comunque ci sono altre due profumazioni oltre questa. Questa però veramente top. A parte che comunque è un prodotto buono e quindi effettivamente pulisce bene. Lascia proprio questa profumazione. Quindi non soltanto nel momento in cui andate a dare lo straccio. Ma anche successivamente resta questa profumazione delicata e pulita. Quindi mi è piaciuta tantissimo. La Greta mi sta mangiando un braccialetto. Vi faccio vedere invece lo smalto che indossa la Greta. Perché me l'avete chiesto sotto tantissime foto. E sono due smalti in particolare che sto utilizzando tantissimo in questo periodo. Quindi ve li voglio segnalare in questo video. Allora questo in particolare è della linea Fluo Neon di Wicon. E questo è il numero 606. E' un viola fluo stupendo. Questo in particolare quando siete un po' anche leggermente abbronzate è wow. Lo metto nei piedi e nelle mani perché non riesco a tenerle scordinate. A meno che non abbia tipo un rosso nei piedi e un neutro così naturale nelle mani. Ok. Ma le metto appunto coordinati. Cioè è veramente bellissimo l'effetto. E l'altro invece è questo che è di Kiko. E questo è della linea nuova. dei Power Pro. Appunto quella che è uscita adesso con questo tappino. Con questo tappino fatto così che poi aprite. Avete sotto appunto l'altro. E questo è il numero 12. Numero 12. Ed è praticamente un bel fucsia, fragola, rosa. Un po' fluo anche questo. Questo l'ho preso perché mi ricordava molto lo strawberry pink mi sembra. Dell'altra linea. No Greta me lo rompi. Tieni. Dell'altra linea. Quella dei gel. Che adesso è andato praticamente sold out in quasi tutti i colori. E che mi piaceva tantissimo. Lo indossavo tantissimo. Però appunto l'ho distrutto a terra. Facendo un danno veramente tremendo nella casa al mare. Ma abbiamo risolto tutto. È venuto via tutto. Quindi il pavimento è tornato nuovo. Grazie a Dio. Però non sono più riuscita a trovare appunto quel colore. Quindi questo ci assomiglia. Non è identico. Ma veramente ci assomiglia molto. E mi piace molto. L'unica cosa di questi smalti che in realtà non amo particolarmente il pennellino. Perché? Sì. Mi piacciono i pennellini larghi. Però questo effettivamente è un po' troppo largo. Cioè è larghissimo. È super largo. Super largo. E quindi è un attimo difficile da gestire. Perché scende tanto prodotto e effettivamente va a prendere tutta l'unghia. Quindi io ho delle unghie grandi. Però chi ha delle mani più piccoline e l'unghia un po' più piccola effettivamente può creare un po' di problemi. Per quanto riguarda altri prodottini che riguardano trucco o insomma bellezza in generale. Vi faccio vedere questa. Perché allora questa sicuramente sarà una delle mie preferite poi che entrerà nei preferiti beauty. Solo che da qua a quando farò il prossimo partito beauty passerà del tempo. Quindi io più intanto vi faccio vedere. Perché tutte le ragazze che devono magari andare al mare adesso possono essere interessate. Allora questa è dell'Australian Gold ed è, si chiama Dark Labs. È praticamente un attivatore dell'abbronzatura, un intensificatore si può dire così. Senza protezione. Quindi va messo anche durante l'esposizione però pure ovviamente dovete applicare sopra anche la protezione. che si può tranquillamente fare. Mi ha spiegato la ragazza appunto che me l'ha venduto. E apposito specifico per le gambe. Perché, Greta, forse molte di voi come me hanno questo problema. Non si abbronzano le gambe. Cioè io anche se sto un mese al mare le gambe sono sempre meno abbronzate aiuto rispetto al resto del corpo. Quindi questo è specifico per le gambe. E vi dico, l'ho pagato 20 euro. E vi dico che effettivamente, cioè l'ho usato in quei giorni che ero al mare. Ho visto da subito una netta differenza. Io comunque applicavo sopra anche un po' di protezione. Leggera, per le gambe leggera. Quindi non so, magari senza proprio nessuna protezione sarà ancora più forte l'effetto. Magari si può provare a utilizzarlo sulle gambe una volta che siete già un po' abbronzate. Però, insomma, ve lo consiglio. Un prodotto secondo me interessante da tenere d'occhio. Allora, adesso stai lì e non farvi danni. No, poi altre cose che vi vorrei segnalare che mi stanno piacendo molto sono questo. Cioè ve lo voglio far vedere perché è troppo bello anche lui soltanto così da vedersi. Ed è il profumo per capelli di Chanel numero 5. Ragazzi, è veramente Chanel numero 5 che ti potete spruzzare in testa. È proprio specifico. Adesso farà dei danni. È veramente delizioso come profumazione. Questo sono 40 ml. E l'ho comprato al duty free in aeroporto a Berlino. Quando appunto sono stata a Berlino per l'evento con Galderma dove c'era Shamstone. E insomma, quando siamo tornati indietro ci sono ovviamente nel duty free e ho preso qualche regalino per Gianmarco. Ho preso un regalino per mio marito. E per me ho preso questo. Che è veramente delizioso. Ed è veramente, insomma, è piacevole proprio avere questa profumazione in testa. Che comunque resta soft e delicata. Però quando ti avvicini senti questa profumazione dei capelli. Lo trovo veramente carinissimo. L'ha comprato anche Elena. Elena T. Eravamo insieme quindi quando l'ha visto l'ho comprato e l'ha comprato anche lei. Vedremo cosa ne penserà. Se ne parlerà in qualche suo video. Poi per quanto invece riguarda il discorso prodotti viso. Vi voglio far vedere una terra che mi sta piacendo molto e ve la voglio segnalare. Che è questa di Clarenne. Ed è della Quartic Treasure. Che è una delle nuove appunto collezioni che sono uscite. Summer Bronzing Compact. Questa praticamente non ha una colorazione specifica. Perché? Perché al suo interno ci sono quattro. Se riesco a capire ok? C'è un mega spiacchione. Ci sono appunto quattro cialdire di quattro colorazioni. Quindi dalla più chiara fino alla più scura. E questo vi da la possibilità di utilizzare anche singolarmente la terra che è più simile e più giusta, più adatta al colore della vostra pelle in quel certo momento dell'anno. Perché tipo adesso io, per me andrebbero meglio queste due, man mano che mi abbronzerò andranno sempre meglio ovviamente quelle più scure. Oppure io che cosa faccio? Prelevo tutto il prodotto mischiandolo insieme e comunque da un effetto veramente, da un bel colore, un bel colorito che si abbia alla mia pelle in questo momento. Quindi questa è un'ottima terra che vi voglio segnalare perché poi la trovate adesso. Basta, insomma queste erano un po' tutte le mie cosine di cui vi volevo vedere. Ecco, la maglietta che indosso, che sicuramente la vedrete poi anche in un prossimo video di accessi. Cioè mi sta buttando giù tutto. Che ho già registrato e insomma che però adesso non so se manderò in onda prima o dopo questo video comunque. Ed è questa magliettina gialla che praticamente è fatta in questo modo. Vedete qua ha tutti i volants. E l'ho presa da Cos. Questa mi piace tantissimo perché è la prima magliettina di questo modello, quindi con la rouge col volant finale, che mi sta bene e che dà la lunghezza giusta soprattutto. Perché normalmente io queste magliette non le compravo mai perché erano sempre troppo corte. Io non amo le magliette troppo corte. Queste invece della lunghezza perfetta, del giallo perfetto. Quindi insomma ve la volevo segnalare perché se come me non amate le magliette troppo corte e però vi piace questo modellino, questa potrebbe fare al caso vostro. Cos vende anche online. Tenete presente che veste è molto grande. Io ad esempio questa è una S. Quindi veste grande come misura. Quindi magari se siete anche più piccoline, più magliette di me, cioè punterai direttamente su una XS. Ok, niente. Questo è tutto. In qualche modo sono riuscita a registrare questo video. Non so bene come, ma ce l'abbiamo fatta. Vi mando un saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!